Decretata in commissione ieri a Rimini prima del Consiglio Comunale una secca bocciatura alla delibera di fusione, era a Cegasse Aps, con la maggioranza divisa tra stenzioni e no. La Commissione Finanze di Palazzo Grampi, riunita poco prima della sessione consigliare, respinge infatti in chiusura dei lavori la delibera presentata dall'assessore alle risorse finanziarie e partecipate Gianluca Brasini, con dieci voti contrari, tre astenuti e uno favorevole. L'unico voto a favore è quello di Alberto Astolfi, della lista civica di maggioranza Rimini per Rimini. L'assessore Brasini, in apertura pesa e pro e contro dell'espansione della multiutility Emiliano Romagnola, che tutto sommato può dimostrarsi valida come operazione industriale, data la sanità dei soggetti, operazione questa che garantisce la partecipazione pubblica a maggioranza, prosegue, ed in linea alla richiesta di riduzione dei compensi dei manager avanzata da noi da tempo. Il punto dolente del processo riguarda però il rapporto con la nostra città e il gestore, ammette l'amministratore della giunta, il sindaco Andrea Agnassi, che teme uno scostamento tra una logica industriale, che sicuramente funziona per il conseguimento di utili di borsa, e l'attenzione ai territori dei comuni da Rimini a Modena. A lui segue l'assessore Brasini, che ricorda le esigenze sul pieno di salvaguardia della balneazione, proprio a ragione del fatto che il mare è, non solo per Rimini, la porta turistica della nostra regione, e conclude spiegando che il voto rappresenta un segnale politico, dato che per i meccanismi del patto di sindacato decide la maggioranza, ma è necessario avviare uno scambio costruttivo con ERA.